Il lunedì tutta l'attenzione è sui risultati di calcio dei campionati locali di ieri. La Valterese batte il forte Montecchio con un gol di Squeri e conquista così tre punti di notevole importanza che la portano nelle zone tranquille della classifica di promozione. Non è stata una partita facile ma gli uomini di mister Borzoni sono stati bravi perché hanno saputo raccogliere il massimo risultato con il minimo sforzo. Il gol di Squeri è arrivato con un'azione personale dell'attaccante che partendo dalla sua metà campo ha eluso con un paio di ottime finte gli avversari diretti e poi allargandosi sulla sinistra ha insaccato con un bel tiro in diagonale. L'altra occasione l'ha avuta Capitan Bozzia che con il solito schema su punizione ha colpito la traversa, portiere battuto. Il Montecchio è parso una buona squadra ma nonostante la grande mole di gioco che ha sviluppato non è riuscita ad impensierire quasi mai l'estremo vicini. Una vittoria che davvero ci voleva perché dopo le paventate dimissioni di mister Borzoni l'ambiente aveva bisogno di ritrovare quella serenità che pareva svanita dopo le prime due partite di campionato. Buono l'esordio di Filippi mentre il rientro di Ivan Martini ha dato maggior sicurezza a tutta la squadra. Squiri è arrivato a quattro gol e figura tra i migliori bomber del torneo mentre Calchini sembra ancora indietro di condizione. Buona anche la prova della difesa che finalmente ha chiuso senza prendere gol. Il Bedogna cambia il mister ma non cambia il trend di sconfitte cedendo in casa per 1-0 con la forte Bobbiese ora si ritrova ultimo in classifica con soli due punti in sei partite. Mister Cassiani che in settimana ha sostituito Mancini ha apportato alcuni cambiamenti alle formazioni e inoltre ha riportato nei ruoli naturali alcuni giocatori. I risultati si sono subito visti poiché la manovra è apparsa più fluida ma la Bobbiese era la squadra più ostica da incontrare in questo momento di convalescenza e quindi complice anche la sfortuna è arrivata la quarta sconfitta. Cambio in corsa anche per il Borgotaro che dopo le dimissioni di Dodi ha ingaggiato Mister Biagi che l'anno scorso era in forza alla Valterese. Con questo cambio il Borgotaro ha ottenuto una convincente vittoria per 4-0 a Calestano. Una partita senza storia che ha messo in mostra tutte le qualità dei borghigiani che pur privi di Dauti e Leonardi hanno dettato legge fin dai primi minuti tanto che hanno chiuso il primo tempo sulle 3-0. Buona la prova della calestanese nella seconda frazione ma l'impegno profuso non è servito contro la maggior qualità di Bazzani e compagni. Il Solignano butta al vento l'ennesima vittoria negli ultimi minuti e chiude la partita con il Felino sull'1-1. Con il gol su rigore di Bertorelli a 10 minuti dalla fine sembrava fatta per i ragazzi di Setti ma un altro rigore procurato dal portiere del Felino all'ultimo minuto dava il pareggio agli ospiti. È difficile vedere il portiere in attacco ed ancor più difficile vederlo segnare ma vederlo procurarsi un rigore non era mai capitato. Tre pareggi in casa e tre vittorie fuori casa fanno pensare che qualcosa non funziona nel Solignano e quindi Mister Setti dovrà trovare le giuste soluzioni per far rendere i suoi anche tra le mura amiche che per ora amiche tanto non sono. Il Bardi va a vincere per 2-1 sull'edificio e campo del Tizzano e si porta in testa la classifica con pieno merito. La partita non prometteva nulla di buono perché Mister Bianchi doveva rinunciare all'osa e belli e quindi le prospettive non erano certamente delle migliori ma Lucci e Marenghi non hanno fatto rimpiangere i titolari segnando un gol a testa. La partita è terminata con una ventina di minuti di ritardo per un incidente accaduto al bravo Marenghi che si è procurato un taglio alla testa poi suturato con una decina di punti. Molta paura ma nulla di preoccupante per il giocatore di proprietà della Valtarese a cui si fanno i complimenti per l'ennesimo gol e gli auguri di pronta ripresa per l'incidente. Non è andato nulla per il verso giusto al compiano che in casa è stato travolto 3-0 dall'audace. È difficile raccontare una partita come questa poiché dire che il risultato è bugiardo davvero non rende bene l'idea. Un incontro strano dove l'audace ha fatto il suo segnando tre gole ed il compiano pur avendo il doppio delle occasioni degli ospiti non l'ha mai messa dentro. La svolta però al di là dei demeriti tattici del compiano è arrivata per merito o demerito dell'arbitro che prima ha sorvolato su un macroscopico rigore a favore del compiano e poi sul proseguo dell'azione ha concesso un gol agli ospiti che era perlomeno dubbioso. La palla colpita dal centroavanti ospite da non più di due metri dalla riga di porta ha impattato contro la traversa e dopo aver battuto a terra è uscita dallo specchio della porta stessa. Ha battuto dentro o fuori? L'arbitro è apparso sicurissimo e ha assegnato il gol agli uomini di estasi. Ma qualche dubbio è rimasto perché il direttore di gara era molto lontano dalla zona incriminata e quindi non si capisce come possa aver visto la palla superare la linea. Questo fatto però non può essere portato a giustificazione della sconfitta poiché gli uomini di Chiolerio hanno sprecato tutto quanto c'era da sprecare in zona gol e per di più si sono fatti infilare come i polli in occasione di tutte e tre le reti dei parmigiani. La mancanza in attacco di Roberto Mori si è fatta sentire in fase realizzativa ma non si può tacere che Le Rose che l'ha sostituito è stato forse il migliore in campo dei suoi. In un paio di occasioni in cui si è trovato a tu per tu con il portiere avversario Le Rose ha sbagliato ma anche la sfortuna ha voluto dire la sua contro di lui. Alla fine arbitro o non arbitro l'audace non ha rubato nulla poiché è stato il Compiano a confezionargli un bellissimo pacco regalo. Due formazioni quelle viste ieri a Compiano che hanno messo in mostra una fase difensiva che è parsa più lasciata al caso e alle cognizioni dei singoli che all'organizzazione di squadra e questo brutto aspetto può davvero incidere molto sul proseguo del campionato di entrambe. Brutta sconfitta del Valgotra che ha perso a Madregolo per 4 reti a 2, una sconfitta che se non chiude il campionato mette però in seria difficoltà tutto l'ambiente che sperava in questa partita per rimettersi in corsa dopo una partenza alquanto deludente. Una squadra che ha un organico di tutto rispetto sia come quantità che come qualità e che potrebbe fare la sua bella figura in seconda categoria non riesce a prendere il passo giusto e dopo 6 partite ne ha vinte solo una. In vantaggio per 1-0 gli uomini di Cacchioli si sono afflosciati ed hanno avuto un blackout che li ha visti soccombere per ben 4 volte di fila. Il secondo gol del Valgotra è arrivato alla fine quando ormai i giochi erano fatti. Sul campo del forte e favorito Madregolo si può perdere ma non si può rimanere in partita per solo un mezzo tempo se si è una squadra costruita per il salto di categoria come il Valgotra o meglio come era il Valgotra. E siamo al meteo per domani 25 ottobre martedì al mattino nuvoloso con pioggio estese al pomeriggio precipitazioni ancora più intense localmente anche a carattere temporalesco. Le temperature sono in aumento, le minime intorno agli 8 gradi, le massime tra i 13 e i 15 gradi, infine i 20 saranno deboli e moderati. I programmi di RTA tra poco alle 20 e 45 e la rubrica musicale C'è musica nell'aria, poi alle 21 e 30 vi proporremo uno speciale di Stefano Berni, il concerto che la corale perché no ha tenuto a Bedonia alle 22 e 30 e infine la replica del telegiornale. È tutto, grazie per averci seguito, torniamo domani, vi auguro un buon proseguimento, arrivederci.